È giusto lavorare con il tempo che ci vuole per trovare la possibilità di darmi una ragione a me che mia figlia non ce l'ho più, mentre gli altri ce l'hanno e sono nascosti sempre nelle tane. Slitta il prossimo 28 novembre la decisione del GUP sul rinvio a giudizio dei due giovani aretini, Luca e Alessandro, coinvolti nel caso di Martina Rossi, la giovane studentessa d'Imperia morta precipitando dal sesto piano di un albergo a Palma de Mallorca nell'agosto 2011. La lunga udienza di fronte al giudice Ponticelli, durata oltre otto ore, è stata infatti sospesa e aggiornata la prossima settimana, data in cui il giudice, dopo le controrepliche, dovrà decidere se mandare o meno a processo i due giovani. Darebbe anche veramente un valore, diciamo così, non solo a un papà, a una mamma, ma darebbe un valore anche al nostro paese per le impostazioni, poi per i valori che io credo, cioè che sono quelli di fare un mondo più bello, dove le donne possono andare in vacanza tranquille senza che vogliono violentare due ragazze in camera. Secondo l'accusa Martina sarebbe precipitata per sfuggire ad un tentativo di violenza sessuale. Il procuratore Roberto Rossi ha chiesto il rinvio a giudizio, stessa richiesta anche dalle parti civili. Era particolarmente contenta perché aveva conosciuto un ragazzo con cui aveva comunanza di interessi culturali, con cui si era scambiata anche qualche innocente effusione, quindi tutto pensava e tutto aveva bisogno, forché di essere ammiccante con altre persone che tanto meno conosceva. Non è Martina quella che ci viene descritta. La difesa invece punta al proscioglimento degli imputati. Io ho parlato di deserto probatorio, non a caso, non a caso deserto probatorio, perché secondo questo difensore non ci sono assolutamente presupposti per un rinvio a giudizio. La difesa infine ha sollevato un'eccezione, ossia quella che segue il principio del nebissin idem, per il quale non si può essere processati due volte per gli stessi fatti. Cioè abbiamo detto, la posizione giuridica di colui che non riveste la qualifica di indagato, nonostante che abbiano fatto accertamenti sul punto, è diversa, è peggiorativa o migliorativa rispetto a colui che invece ha rivestito la posa di indagato, quando, come nel caso di Sperce, l'accusa privata ha avuto modo di rappresentare la propria linea difensiva?